Isola dei famosi Isola dei famosi, il posto di Giulia Salemi è a rischio Giulia Salemi non sbarcherà in Honduras. Partecipazione a rischio. La prima puntata dell'Isola dei famosi andrà in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5, condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Il cast è ancora aperto ma qualche giorno fa sul Settimane Chi, diretto da Alfonso Signorini, tra i probabili partecipanti si leggeva anche il nome di Giulia Salemi. In passato l'ex Miss Italia ha già partecipato a Pechino Express insieme alla mamma Fariba. A quanto pare però qualcosa potrebbe non essere andata per il verso giusto. Alcune voci fanno sapere che la Salemi sia un po' scoraggiata. Nonostante l'ottimo provino sostenuto per partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei famosi, la ragazza non sembra essere stata più ricontattata dalla produzione del reality. . A rendere nota la notizia è stato il settimanale Oggi. Partecipanti del cast della nuova edizione del reality. . La nuova edizione dell'Isola dei famosi sta per tornare in tv. . . Al momento tra i confermati spunta il nome di Brigitte Nielsen. In Honduras dovrebbero sbarcare anche l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, la fashion blogger Chiara Nasti, Fabrizio Braconieri e Nadia Rinaldi. L'inviato di questa nuova edizione dovrebbe essere Stefano De Martino, anche se si attende ancora la sua firma sul contratto. Qualche tempo fa si era pensato anche a Daniele Bossari, ma la notizia non è mai stata confermata. . . . . Ciao